Musica E i prefetti è arrivato un ordine perentorio, sgomberare immediatamente le case popolari occupate abusivamente, senza attendere l'esito della sanatoria regionale. Un fenomeno che in Sicilia riguarda migliaia di famiglie, 200 in provincia di Ragusa, soprattutto a Vittoria e a Scicli. Una cinquantina di sindaci della città capoluogo manifestano a Roma per il ripristino dei finanziamenti per le periferie, ma non c'è il comune di Ragusa, che è pure interessato alla metropolitana di superficie. Il progetto, che tra i 96 complessivamente bloccati, corrisponde più di tutti agli obiettivi del bando. Comuni, i danno impienti su vari fronti, continuamente esposti ai poteri sostitutivi dei commissari. In questo caso nel mirino è l'inerzia nella lotta agli abusi ed ilizzi. Sono cinque gli enti in provincia sott'esame, ispettori a Ragusa, Vittoria, Scicli, Pozzallo e Dacate. Possibili nuovi commissari ad acta. Una decreto legge per non mettere nero su bianco, nel modo più rapido, chiaro ed efficace, il ripristino dei tribunali soppressi. È la richiesta che il comitato pro-tribunale di Modica si appresta a fare al ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, nell'incontro che dovrebbe essere fissato proprio in questi giorni. Fa indignare e discutere la vicenda del centro per i disabili che a Pozzallo, una coppia di coniugi, vorrebbe regalare alla città ma non riesce per i mille ostacoli frapporti. È dietro a fare chiara l'ombra degli interessi di una filiera politica, associativa e affaristica che da sempre vive sulla pelle dei disabili. Buongiorno e bentrovati con l'informazione della Prima TV. Apriamo il telegiornale parlando del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili. Infatti sono circa 40.000 le famiglie siciliane in lista d'attesa nelle graduatorie per l'emergenza abitativa. Tra queste tantissime occupazioni occupano spazi pubblici in attesa dell'assegnazione della casa e adesso rischiano di essere colpite dalla circolare del ministro Salvini. In provincia di Ragusa è Scicli che è il numero più alto di immobili occupati. Sentiamo. Sono circa 40.000 le famiglie siciliane in lista d'attesa nelle graduatorie per l'emergenza abitativa. Tra queste tantissime occupano spazi pubblici in attesa dell'assegnazione della casa e adesso rischiano di essere colpite dalla circolare del titolare del Viminale Matteo Salvini che invita i prefetti agli sgombri degli spazi occupati. Stime raccolte comune per comune dalle Sunia il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari che adesso annuncia battaglia contro il provvedimento delle vicepremier. Reo, secondo la segretaria regionale del sindacato Giussi Milazzo, di avere diramato una circolare assolutamente repressiva perché si limita a dire che intanto bisogna fare gli sgomberi e soltanto successivamente, ma non specifica in che modo occuparsi di quelli che hanno veramente bisogno. Un po' come l'ordinanza antibivacco del sindaco pogliese a Catania. La nuova linea politica sembra essere quella di nascondere innanzitutto il povero e la povertà e poi forse chissà anche occuparsene. Ma la circolare di Salvini non desta preoccupazione soltanto in chi ogni giorno si occupa di emergenza abitativa, ma anche in chi lavora affinché uno spazio pubblico abbandonato possa diventare aperto e fruibile a tutti. È un problema che non risparmia nemmeno la provincia di Ragusa, quello dell'occupazione abusiva degli alloggi popolare. I dati forniti dallo IACP, gli aggiornati al 31 dicembre 2017, ci dicono che i comuni maggiormente interessati dal fenomeno sono Modica, Scicli, Ragusa e Vittoria. A guidare la classifica è Scicli, con ben 84 mobili occupati abusivamente, seguono Modica con 52 e Ragusa con 44. Chiude Vittoria con 32 case, i cui abitanti hanno una posizione da regolarizzare. Nell'arco di 3-4 anni i numeri sono stati dimezzati, passando da circa 400 alloggi occupati a poco più di 200 a livello provinciale. Ma con la finanziaria regionale da poco approvata dalla Regione Sicilia, è arrivata la sanatoria e i delicati equilibri potrebbero mutare. Il Parlamento regionale l'ha approvata all'unanimità, senza alcun emendamento. In precedenza, la normativa prevedeva la possibilità di sanare la posizione di coloro che avevano occupato una casa di edilizia pubblica prima del 31 dicembre 2001. Adesso, le famiglie che hanno occupato prima del 31 dicembre 2017 e che hanno i requisiti di legge per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione potranno ora divenire assegnatari a tutti gli effetti, pagando con un piano rateale decennale gli importi arretrati. Si è tenuto oggi un incontro nella sala stampa di Montecitorio, organizzata da Lanci e presieduta dalla Presidente De Caro, per chiedere al Governo il rispetto degli impegni, in particolare sul rilancio delle periferie. Per la Sicilia il danno ammonterebbe a più di 300 milioni di euro. Sentiamo. Sindaci a Montecitorio per chiedere al Governo il rispetto degli impegni, in particolare sul rilancio delle periferie. Nella sala stampa di Montecitorio, una delegazione guidata dal Presidente del Lanci, Antonio De Caro, ha tenuto oggi una conferenza stampa sul decreto 1000 proroghe, sulla vicenda del bando delle periferie e su altre misure di interesse per i comuni, subito dopo l'audizione degli stessi sindaci in commissione bilancio della Camera. Il decreto 1000 proroghe, ricorda una nota del Lanci dopo il via libera del Senato, verrà esaminato dall'Aula di Montecitorio nei prossimi giorni. I sindaci illustreranno le ragioni della loro contrarietà rispetto al congelamento del finanziamento da 1,6 miliardi del bando periferie per 96 progetti che interessano 87 comuni capoluogo e 9 città metropolitana, coinvolgendo complessivamente 326 comuni e quindi i loro 19 milioni e 800 mila residenti e argomenteranno le ragioni per cui considerano la norma illegittima e irragionevole da abrogare. La scelta di sospendere il finanziamento era stata definita un furto con destrezza dalla Presidente De Caro, che già in agosto, al momento dell'approvazione in Senato, ha chiesto alle forze politiche, al governo, un ripensamento. Non vogliamo lo scontro, non vogliamo fare un muro contro muro, ma richiamiamo il governo a quel patto di reciproca collaborazione che dovrebbe sempre guidare le istituzioni, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei cittadini. Una cosa deve essere chiara ai nostri interlocutori istituzionali, i sindaci non si fanno prendere in giro. Nonostante rappresentare la Sicilia sia il sindaco di Catania, le città che si dicono colpite dal provvedimento iscrivono fra loro anche Palermo. Le periferie urbane delle grandi città siciliane sono fra le più pesantemente colpite dal previsto blocco del bando per le periferie, votato nell'ambito del cosiddetto mille proro, che dice il sindaco di Palermo, Luca Orlando. Un danno complessivo che supera certamente 300 milioni di euro se si tiene conto delle risorse aggiuntive pubbliche e private che tutti gli enti coinvolti avevano già reperito e messo a disposizione. Solo a Palermo, ad esempio, il progetto RUIS per la riqualificazione urbana e la sicurezza prevede complessivamente 50 interventi per oltre 180 milioni, aggiunge. Ma è un danno che colpisce in modo indiscriminato tra le aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e le città di Enna, Caltanissetta, Grigento, Ragusa, Siracusa e Trapani. Se davvero prima gli italiani, viene da chiedersi quali italiani? Certamente non quelli che vivono nelle periferie delle grandi città. Per questo i sindaci siciliani e l'Anci Sicilia fanno proprio la battaglia di Anci Nazionale perché si giunga la revoca di questa norma e perché più in generale su tutto quanto riguarda gli interventi è per i comuni. Vi sia un dialogo e una concertazione tra governo, Parlamento ed enti locali, non provvedimenti calati dall'alto. E tra i 96 progetti bloccati dal punto nel decreto mille proroghe per i quali una cinquantina di sindaci di città capoluogo sta protestando a Montecitorio c'è quello della metropolitana di superficie a Ragusa. Ma dalla Sicilia è andata alla Camera solo il primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese. Eppure il progetto Ibleo è più in linea con l'obiettivo di riqualificare le periferie ed è anche di importanza vitale per la città. Ce ne parla Carmelo Ricotti-La Rocca. La battaglia per la metroferrovia di Ragusa è la stessa che una cinquantina di sindaci di città capoluogo stanno combattendo in queste ore tra conferenze stampa a Montecitorio e audizioni in commissioni alla Camera dove il famoso decreto mille proroghe che ha bloccato 96 dei 120 progetti è all'esame dopo il voto shock del Senato. Il Comune di Ragusa non è presente eppure il progetto della metroferrovia o metropolitana di superficie concepito vent'anni fa è finalmente realizzabile ed è di importanza decisiva per la città. Il Senato lo ha bloccato come la maggior parte in seguito ai rilievi della Corte Costituzionale sull'ammontare complessivo dei progetti molti dei quali avrebbero scarsa attinenza con il fine della riqualificazione delle periferie. Ma questo non è assolutamente il caso di Ragusa dove la metroferrovia da Ibla a Donna Fugata nell'area di uno dei più grandi comuni con i suoi 445 chilometri quadrati potrà collegare, qualificare e integrare proprio le periferie. Un progetto che ha bisogno di essere sostenuto nella sua essenza tecnica di impatto urbano e ambientale nonché di miglioramento della dotazione infrastrutturale e non solo come uno dei tanti tasselli del puzzle dei 120 programmi approntati in fretta e furia grazie anche all'intuizione di Renzo Piano. Ragusa è ancora ferma e silente dopo la doccia fredda del decreto 1000 proroghe giunta appena 24 ore la storica firma della Convenzione. Il Comune deve quindi essere più di ogni altro in prima fila in questa battaglia non basta attendere le notizie dal Sindaco di Catania o da quello di Palermo. In Sicilia solo l'8% dei comuni è in regola con il PRG. I sindaci non riescono a dare delle risposte sulla lotta all'abusivismo edilizio. La Regione ha così inviato 35 ispettori. Nella provincia eblea sotto osservazione sono 5 comuni. Vediamo. 35 comuni siciliani sono sotto osservazione per non essere riuscite a contrastare in maniera efficiente ed efficace il fenomeno dell'abusivismo edilizio. D'altronde si tratta di un gap risaputo e di un fenomeno conosciuto. Basti pensare ad un dato su tutti. Nell'isola solo l'8% dei comuni è in regola con il piano regolatore generale vigente. L'assessorato territorio e ambiente ha dato mandato agli ispettori funzionari della Regione di indagare sui motivi che hanno portato 35 comuni a non dare risposte sulla lotta alle costruzioni abusive. In tutto questo Ragusa non è immune. Anzi, ci sono 5 comuni a rischio commissariamento. Vittoria Pozzallo, Acate Ragusa e Scicli. I sindaci cui sono state notificate le ispezioni devono giustificare perché da un anno a questa parte non hanno fornito risposte e sono rimasti nel silenzio. Inoltre dovranno motivare il perché non hanno intrapreso azioni per bloccare le costruzioni abusive. Per quanto riguarda Scicli oggi è arrivato anche l'attacco al sindaco da parte di Sinistra Italiana che sottolinea come questo per l'ente sia il quarto provvedimento ispettivo in poco tempo evidenziando il silenzio dell'amministrazione su temi e decisioni che potrebbero segnare le sorti della città. A Vittoria la Commissione Prefettizia interviene sui disservizi idrici che si stanno registrando in alcune zone della città. Si tratta di problemi atavici dichiarano i commissari prefettizi che stiamo fronteggiando di concerto con la Direzione Ecologia. Abbiamo già disposto il potenziamento del servizio di fornitura tramite autobotti e l'avvio di verifiche tecniche sulle condutture idriche al fine di accertare la presenza di eventuali falle. Purtroppo la rete è vetusta ed è per questo che abbiamo in cantiere alcuni interventi di rifacimento. I lavori saranno affidati a breve. Il nostro obiettivo è quello di garantire una piena e costante fruizione dell'acqua a tutti i cittadini di Vittoria e stiamo lavorando in questa direzione. E adesso la pagina di cronaca. Un 23enne di origini straniere è stato sorpreso a spacciare dai carabinieri della compagnia di Modica. L'arresto è avvenuto nella centralissimo Corso Garibaldi. A casa della giovane trovata altra droga e materiale utilizzato per tagliare e confezionare lo stupefacente. Sentiamo. Continuano a fioccare gli arresti per droga in provincia di Ragusa. A finire in manette stavolta un giovane straniero di 23 anni sorpreso a scicli dai militari dell'aliquota di Modica a spacciare Ashish. Il 23enne si trovava nel centralissimo Corso Garibaldi. Il suo atteggiamento ha insospettito subito i carabinieri che hanno così deciso di perquisirlo. I sospetti si sono quindi subito tramutati incertezze con il rinvenimento di alcuni grammi di Ashish e denaro incontante. La successiva perquisizione in casa del giovane ha poi permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente di tipo marihuana e alcuni semi di canapa indiana. Inoltre c'erano un bilangino di precisione coltello intriso di sostanza già tagliata. Il giovane è stato così arrestato e posto a disposizione del pubblico ministero di turno Monica Monego. La droga sequestrata era destinata presumibilmente alla movida ciclitana. Rapina una profumeria a modica bassa e va a comprare delle dosi di droga. Quando gli agenti della polizia hanno fatto eruzione nella sua abitazione stava consumando lo stupefacente. Per farsi dare i soldi ha simulato di avere una pistola in tasca. Sentiamo. Ha rapinato una profumeria e con il provento acquistato della droga è accaduto sabato a Modica con un 24enne straniero già gravato da numerosi precedenti penali che è entrato in una profumeria del centro storico puntando il dito sulla tasca del pantalone simulando di avere con sé una pistola. A quel punto ha intimato alla proprietaria dell'esercizio commerciale di dargli i soldi che aveva in cassa e la donna impaurita gli ha consegnato la somma di 60 euro una volta fuori dal locale la proprietaria ha avvertito gli agenti del commissariato di Modica che dopo una breve ricerca sono piombati a casa dell'uomo e lì lo hanno trovato ad assumere droga insieme ad un amico le dosi secondo quanto riportato dagli agenti coordinati dal dirigente Nicodemo Liotti sono state acquistate con il provento della rapina il 24enne è stato così arrestato e la droga sequestrata a Santa Croce Camerina c'è Palazzo Carratello un palazzo in stile tardo barocco un elegante prospetto che all'interno conserva ancora una possente scalinata in pietra asfaltica con numerosissime stanze e ampi bassi ma mai nessuna amministrazione ha pensato veramente di valorizzarlo eppure potrebbe diventare sede museale per ospitare culture e tradizioni su facebook è apparso la denuncia dell'associazione Fare Natura che punta il dito su tutte quelle persone che usano il prospetto del palazzo come orinatoio e luogo per gettare i rifiuti l'associazione chiede all'amministrazione comunale di restaurare questo palazzo per renderlo usufruibile per tutta la collettività era il 2 gennaio di 19 anni fa e in una stazione di servizio a Vittoria vennero uccise 5 persone in quella che fu ribattezzata la strage di San Basilio dopo le condanne imposte ai gelesi compresi i killer entrati in azione la vicenda è ritornata davanti ai giudici la corte di cassazione però ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal vittoriese Giovanni Avvento vediamo una strage una strage una strage voluta dagli allora vertici di Cosa Nostra gelese e che costò la vita a 5 persone tutte trucidate all'interno di una stazione di servizio a Vittoria era il 2 gennaio di 19 anni fa e dopo le condanne imposte ai gelesi compresi killer entrati in azione la vicenda è ritornata davanti ai giudici la corte di cassazione però ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dalle vittoriese Giovanni Avvento il 57enne venne arrestato per la cosiddetta strage di San Basilio ma la stessa Cassazione e poi i giudici della corte d'assise d'appello di Catania rividero la sua posizione con un verdetto d'assoluzione Avvento come dichiarato successivamente dai collaboratori di giustizia non partecipò all'agguato ordinato per colpire Angelo Mirabella uno dei vertici del gruppo Stidaro a Vittoria gli Emanuello avevano deciso di eliminarlo insieme a lui però caddero altre 4 persone compresi i semplici avventori del bar della stazione di servizio sono state pubblicate le motivazioni che hanno indotto i giudici romani a respingere la richiesta di riparazione portata avanti dal legale di Giovanni Avvento il 57enne rimase detenuto per 6 anni proprio in relazione al procedimento scaturito dai fatti del bar esso ottenuta la soluzione ha chiesto un risarcimento sia i giudici della corte d'appello di Catania sia quelli di Cassazione però hanno respinto l'istanza Avvento stando ai magistrati romani ha ottenuto la soluzione per i fatti del gennaio di 19 anni fa ma avrebbe comunque gravitato negli ambienti della criminalità organizzata la corte territoriale ha puntualmente individuato in cosa sia consistita la colpa grave del ricorrente evidenziando che l'avvento scrivono i giudici nelle motivazioni successive all'udienza dello scorso maggio secondo le plurime ed univoche risultanze probatorie che non trovano smentita nella sentenza assolutoria era strettamente legato al contesto associativo nell'ambito del quale è maturato il proposito omicida e adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria a tra poco a tra poco e adesso ci fermiamo a tra poco Grazie a tutti. 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 a tutti.